4 novembre oggi si celebra? La festa dei morti, non so che festa è. L'ultima guerra 15-18, in cui l'Italia vince. Allora, 4 novembre si celebra la giornata? Non mi spiazzi perché non saprei qual è la ricorrenza... Sicuramente la ricorrenza è che l'ho vissuto per 30 anni, quella delle forze armate e di polizia di tutta l'Italia. Aspetta che cosa, vedrete l'ultima? E' la festa delle forze armate. La festa delle forze armate, abbiamo assistito stamattina alla piazza Tresca. La festa delle forze armate. Prima di rispondere, almeno la metà dell'intervistato ci ha pensato su due volte. Alcuni hanno confuso il 4 novembre con la festa dei morti, altri hanno indovinato a primo colpo. E' quanto emerge da una nostra rapidissima raccolta di opinioni sulla celebrazione odierna. Il giorno dell'unità nazionale, giornata delle forze armate, cade il 4 novembre, ricordo del 4 novembre 1918, l'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia, la festa delle forze armate italiane e la festa dell'unità nazionale. Fino al 1977 è stato un giorno festivo a tutti gli effetti. Da quell'anno in poi, a causa della riforma del calendario e delle festività nazionali, introdotta via ragioni economiche con lo scopo di aumentare il numero di giorni lavorativi, è stata resa festa mobile che cadeva nella prima domenica di novembre. Nel corso degli anni 80 e 90 la sua importanza nel novero delle festività nazionali è andata declinando, ma recentemente, in corrispondenza con la presidenza della Repubblica di Carlo Azzelio Ciampi, è tornata a celebrazioni ampie e diffuse. Grazie a tutti.